Non ci potevo credere quando me lo hanno chiesto, eppure questa cosa esiste, c'è gente che lo fa. Ragazzi, attenzione, fermatevi se state acquistando criptovalute in questo modo. Salve a tutti, sono Marco Casario, un video veloce solo perché mi è capitato che alcune persone mi hanno scritto chiedendomi di non riuscire ad uscire dalle loro posizioni con le criptovalute, quindi gli ho chiesto quali sono queste criptovalute che hai acquistato e per le quali non riesci più a chiudere la posizione. Mi hanno cominciato a dire dei nomi di criptovalute che io non avevo mai sentito. Ragazzi, le criptovalute sono centinaia ormai e ce ne sono davvero tantissime, è impossibile seguirle tutte. Ecco perché quello che dico sempre è cercare di concentrarvi su 30-40 criptovalute, studiatele, studiate i white paper, capite i progetti, il business model, il team che c'è dietro, in modo tale da essere ferrati su quelle. Non ve ne servono tante per averne a portafoglio, dovete avere un portafoglio di centinaia di criptovalute. Ma torniamo al dunque. Quindi mi sono state sottoposte queste criptovalute che non avevo mai sentito. Allora sono andato a vedere di che mercato stavamo parlando e quello che ho trovato è che erano criptovalute che costavano qualche 0,002 centesimi di dollaro, non solo, ma che avevano volumi bassissimi, volumi giornalieri di una ventina di bitcoin, tanto per farvi intendere l'ordine di grandezza. Ragazzi, ma come pensate di poter far trading su queste coin con una liquidità così bassa? È ovvio che nel momento in cui cercate di chiudere e liquidare la vostra posizione non ci riuscite, perché non c'è liquidità sui mercati, non ci sono i volumi. Non potete far trading su dei mercati così sottili, con così poca liquidità, perché non c'è, nel momento in cui cercate di vendere la vostra posizione e quindi di chiuderla, non c'è nessuno dall'altra parte che sta comprando. Entrare in un mercato è facile, comprare ed entrare in un mercato, in una nuova coin, è molto facile ragazzi, è difficile uscire. Ecco perché dovete fare attenzione a non far trading sulle cripto in questo modo. Molti pensano che, ma no, visto che questa cripto costa molto poco, questa coin costa molto poco, io ho poche centinaia di euro di investimento, allora non mi posso permettermi di prendermi un pezzettino di Ethereum, un pezzettino di Ripple, no, appunto invece a qualche coin sconosciuta che costa, che con 100 euro mi permette di prendere, che ne so, mille coin. Però poi nessuno si domanda, ma poi riuscirò a liquidare quelle posizioni, a chiudere quelle posizioni? E vi faccio vedere qual è quindi la modalità, l'approccio che non dovete usare per far trading sulle criptovalute, per poi rischiare di trovarvi a non riuscire a chiudere una vostra posizione. Ve lo faccio vedere con un esempio pratico, perché è esattamente quello che è successo da alcuni colleghi che mi hanno scritto e stanno affrontando, approcciando il mercato delle cripto in questo modo. Andiamola a vedere con un esempio pratico ragazzi. Ed eccolo qui ragazzi l'esempio pratico. Vi voglio far vedere come non investire in criptovalute, soprattutto se avete un capitale piccolo e quindi come vi dicevo prima, pensate che avendo magari qualche centinaia d'euro da investire è impensabile pensare di acquistare un micro pezzo di bitcoin che sta a 19.000 dollari o Ethereum che è arrivato quasi a 1.000 dollari, parliamo del 18% fatto solo nelle ultime 24 ore, il 25% fatto da bitcoin cash che sta intorno ai 2.317 dollari. Insomma ragazzi, se avete dei piccoli risparmi da investire nel mondo delle criptovalute, che cosa tendono a fare le persone e perché è sbagliato? Quello che tendono a fare è vanno a ordinare e a vedere i cambiamenti che ci sono stato nelle criptovalute, quindi vanno a ordinare non per market capitalization, ma vanno ad ordinare per vedere qual è stata la performance nelle ultime 24 ore. Vedete che in questo caso, a parte Quantum che ha fatto un 100%, ragazzi, è incredibile, devo parlare di questa criptovaluta prima o poi perché nell'ultima giornata ha raddoppiato il suo valore passando dai 35 ai 70 dollari e che ha una capitalizzazione di mercato però molto buona perché supera i 5 miliardi di dollari. Guardate un po' le altre, guardate qui c'è BitBay che ha fatto il 75% e sta sotto al dollaro a 0.30 centesimi, poi che altro possiamo vedere? Qui c'è GX Shares che sta intorno ai 7 dollari e 51, ha fatto il più 50%, poi qui c'è Ion che ha fatto quasi il 50% e è sui 3 dollari. Quindi che cosa pensano di fare alcune di queste persone che hanno piccoli capitali? Di andare a vedere le criptovalute minori che si stanno comportando bene e il cui prezzo è o al di sotto del dollaro o è vicino sotto ai 10 dollari, quindi che potenzialmente nella loro testa hanno grandi spazi ancora di crescita. Però qual è il problema ragazzi per queste criptovalute? Il problema è questo, è la capitalizzazione di mercato. Guardate che capitalizzazione di mercato piuttosto bassa, questa è la market capitalization totale e questo è il volume nelle ultime 24 ore. Guardate qua, 53 milioni di dollari, 26 milioni di dollari, 2 milioni di dollari. Queste sono criptovalute, mi focalizzo qua su Ion, sono criptovalute che hanno scambi bassissimi nella giornata. Bene, e entrare in questo mercato, a meno che voi non abbiate veramente intenzione, conosciate molto bene il progetto e abbiate intenzione di rimanerci per parecchio tempo, il rischio è rimanere bloccati e non riuscire poi a liquidare, a vendere le posizioni quando volete venderle. Perché i volumi sono troppo sottili. Non paga sempre l'approccio di voler andare a cercare le criptovalute che hanno prezzi molto molto bassi e che si stanno comportando bene, che hanno performance importanti. Andare ad investire su queste nella speranza che il loro valore possa decuplicare nei prossimi mesi e quindi i vostri 100 euro di investimento possano diventare 10.000 euro di investimento. Ragazzi, la mentalità, l'approccio diventa ricco facilmente con le criptovalute. È un approccio che non paga nemmeno in questo mercato. Quindi fate molta attenzione se è questo quello che state facendo. Fate molta attenzione perché le cose potrebbero non risultare poi, potreste non avere i risultati che vi eravate prefissati. Banalmente non tanto perché la criptovaluta in questione non faccia dei numeri stellari, ma quanto perché poi i volumi non vi permettono di uscire. C'è stato un ragazzo che pochi giorni fa mi ha chiesto Marco, io ho comprato un milione di una, non in termini di euro, ma come quantità di coin, di una determinata coin, e non ne ha mai parlato, non ne parla nessuno su internet, e non si sta praticamente più muovendo, che devo fare? La mia domanda è stata ma perché hai investito in questo progetto? La risposta di questa persona è perché costava poco, era un progetto che aveva fatto il 100% in una giornata e pensavo potesse continuare a crescere a quei ritmi. Queste non sono motivazioni che giustificano l'acquisto, ragazzi, assolutamente. Anche perché adesso con tutte quelle coin che ha questa persona, quando riuscirà a chiuderle? Se non ci sono persone interessate all'acquisto. Perché se voi volete vendere, vuol dire che c'è qualcuno in quel mercato che vuole comprare, ma se non c'è nessuno che vuole comprare a quel determinato prezzo, voi quelle posizioni non le chiudete più. Quindi attenzione, sono molto importanti i volumi, capire quanto volume c'è nelle 24 ore su quella criptovaluta, perché se ce n'è poco, il rischio di rimanere bloccati e di non liquidare le posizioni è alto. Mi raccomando, ragazzi, tenete in considerazione sempre questo concetto. Fatemi sapere, lasciandomi un commento, se vi è capitato o siete rimasti bloccati in qualche coin proprio per aver commesso questo errore. Parliamone perché almeno aiutiamo qualcuno a non commettere lo stesso errore in questa community. fatemi sapere se questo video vi è piaciuto. Grazie mille per l'attenzione, ragazzi, e buon trading a tutti. A presto, ciao!